Rubano una bicicletta elettrica a Pesaro e dopo nemmeno mezz'ora dal furto sono stati braccati e arrestati dagli agenti della volante del commissariato fanese che li ha intercettati a bordo del loro furgone e bloccati nella rotonda di Viale Buozzi a Fano. Due italiani di Torre Annunziata di 39 e 37 anni sono stati processati per direttissima nella tarda mattinata di oggi con l'accusa di furto aggravato in flagranza di reato. I due napolitani già noti alle forze dell'ordine all'una della scorsa notte dopo aver tagliato con una tronchesa la catena che la proteggeva hanno rubato una bici elettrica del valore di oltre 1000 euro in Viale della Vittoria a Pesaro e dopo averla caricata su di un furgone bianco si sono diretti sulla nazionale in direzione di Fano. La proprietaria della bicicletta si è accorta del furto ed ha avvisato il 113 fornendo una precisa descrizione della bicicletta e del furgone cosa che ha permesso agli agenti una volta bloccati i ladri di non avere alcun dubbio sulla rifurtiva e quindi non hanno avuto alcuna esitazione nell'arrestare i due che si trovavano anche in compagnia di un minore, un 17enne di origini rumene. All'interno del furgone sono stati ritrovati arnesi da scasso, alcune tronchesi ed un cartello con scritto vendesi probabilmente per camuffare i furti oltre ad un'altra bicicletta da donna rubata probabilmente nel Fanese. Dopo il fermo dei tre la bicicletta elettrica è stata restituita alla legittima proprietaria mentre si cerca il proprietario o la proprietaria della seconda bici rubata che magari attraverso le immagini di Fano.tv potrebbe riconoscerla e identificarla. Convalidato l'arresto da parte del giudice questa mattina e i due napoletani che hanno patteggiato la pena sono stati condannati ad un anno e quattro mesi di carcere oltre ad un'ammenda di 400 euro ed il divieto di dimora in provincia di Pesaro.